Per quanto riguarda il Brexit, non ho voglia di ripetere quello che ho detto la settimana scorsa in plenaria. Io ho constato semplicemente che i radiosi eroi del Brexit di ieri adesso sono gli eroi tristi di oggi. Chi ha fatto sì che ci fosse questo risultato in Regno Unito adesso, uno dopo l'altro, lasciano il palcoscenico, Johnson, Farage e altri. Questi sono dei retronazionalisti e non patrioti. I patrioti non abbandonano la nave quando la situazione diventa difficile.